Musica BLEEEEH Ciao a tutti ragazzi sono Corridan Anche una volta ben ritrovati sul mio canale Proseguiamo con la nostra serie di The Long Dark O per meglio dire riprendiamola E questa volta siamo nella mappa della zona costiera E iniziamo nel faro Nel vecchio faro abbandonato Vediamo la lanterna Allora Come vedete il nuovo inventario Guardate bello col tab Hanno risolto tutti i problemi che aveva il gioco E figata delle figate Ora se scaricate una mod di traduzione Dallo Steam Workshop del gioco E' tutto completamente tradotto in italiano Ci fa vedere la temperatura percepita Le calorie Ci fa vedere il fattore evento Vabbè 0 gradi ovviamente siamo al coperto Bonus vestiario e quant'altro Si è sopravvissuto per 11 minuti Inventario Io andrei subito a prendere la torcia Che abbiamo trovato Sempre che abbia Possiamo anche piazzarla col tasto destro Vi ricordo Possiamo Così Aspetta Possiamo anche riprenderla Equipaggia E per ora però Spengiamo Perché non vorrei Consumarla subito Apriamo cassetti Vediamo se troviamo un po' di roba Giusta per noi Cartuccia Cartuccia Oh 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 Cartuccia Una cartuccia Ah da segnalazione Una luce d'emergenza Ma che cazzo mi serve Sedia La possiamo rompere La sfascio Per recuperare un po' di legna Ovviamente passa il tempo Eccole qua Peso trasportato Nove chili e sessantotto E fame e sete Un po' sono scese Perché ovviamente è passato il tempo Qui possiamo accendere la stufa a legna Una sola fonte di conoscenza Per ora qualcosa da bruciare Ok Questo cos'è Barretta di Muesli Io direi da accendere Per andare a vedere Cosa c'è per di sopra Tra l'altro qui c'è Anche un altro Cassetto Ma prima io voglio andare su Andiamo in cima al faro Non l'avevo mai giocata Sta mappa eh ragazzi È la primissima volta Radio Rotta completamente La radio Vabbè giustamente Rotolo di giornale Per accendere il fuoco Da mangiare E da bere Ce n'è un po' E tra l'altro Abbiamo anche il combustibile Per lanterna Il letto per dormire Fiammiferi Per accendere il fuoco Qualcos'altro di qua Cazzo Va ancora per su Il vecchio faro E banale ragazzi Ripetervelo ancora Per la centesima volta Questa a livello Di survival Ovviamente Single player È in assoluto Il mio gioco Preferito Vabbè Da mangiare E da bere Ce n'ho Un'infinità Allora Carta di giornale Libro Tutta roba da bruciare Fiammiferi La cassa Il problema è che Non ho trovato Nemmeno un vestito Allora Fai vedere Appetito Non ha setato Ma proprio per dir Ci siamo Guarda Mangiamoci Una barretta Di muesli E beviamoci Una grape soda Stacy grape soda Io ho visto qualcosa Sette di pulizia Per i fucili Perfetto Per pulire il fucile Fame e sete Zero proprio Ma si può accendere il faro? Sarebbe una figata Eh Votella accende Lascia faro Ma qui si esce all'esterno? Sono in cima Al faro E rottami Ma Penso Non si possa modificare Intanto Percezione dell'aria Temperatura aria Meno 10 Cazzo Quel rosso però si legge male Qui per i dal 12 Rosso e verde Pazziscano Temperatura percepita Meno 10 gradi E il mio bonus È soltanto di Più 3 E vedete che infatti Scende Abbastanza velocemente Quindi rientriamo dentro Accendiamo un focherello Giusto per No è fatto troppo bene Ragazzi Sto gioco Sta migliorando Sempre di brutto Fra poco Uscirà l'aggiornamento Con la storia Io non vedo l'ora Finalmente Sto gioco Ha una storia Allora Diamoci giusto Una scaldata Qui nella stufina Legna da ardere Cedro Allora Stufa a legna Direi che Fiammiferi di cartone 65 probabilità Di successo Legna da ardere Cedro No Il libro E accelerante Che almeno L'accendo col 100% Spengiamo la torcia No Aspetta Così Poi prendiamo Il libro Il berretto di lana Che Forse Non ho In testa No Infatti Indossa Subito E ci alza Di 0.9 La temperatura Che ora è Più 4 Criamo cassetti Non so se c'è un maglione Qualcosa Scarpe Andiamo a confrontare Quindi le scarpe Che abbiamo trovato Danno Più 0.4 Più 0.4 Come le altre Però Sono un po' Meno rotte Quindi indosso Questo Ci scaldiamo Un pochino Non abbiamo Niente da cucinare Comunque vedete Sono al caldo Completo Vi direi che Va la luce E va il cazzo Direi che proviamo Ad uscire Se le condizioni Luce sono proibitive Ragazzi Perché voglio Giocarmela Veramente Da sopravvissuto Meno 10 Più 4 Quindi meno 6 gradi Dai ci può sta cazzo Una persona non congela Se si muove Con Temperatura percepita No Meno 6 Più 4 O meno 2 gradi centigradi Cazzo ci può sta Quando al tempo Facevo il benzinaio Uscivo l'inverno alla mattina A gennaio e febbraio Facevo anche Meno 3 Meno 4 Meno 5 Anche a volte La macchina congelata E io non morivo Quindi Porca troia E non avevo nemmeno Il cappellino di lana Però forse potrei levare Questa Disequip Ok Guardiamo un po' Almeno si esplora Questa nuova zona Tanto tutto quello Che c'era da prendere Nel fare L'ho preso Il fuoco L'ho lasciato acceso Vedo laggiù Una cascata E questa E' una mappa Intermedia Perché E' una mappa Intermedia Perché quelle più facili Sono le prime due Questa è la mappa Intermedia Quindi difficoltà Per giocatori Abbastanza esperti E quella dopo E la mappa finale Che vi farò vedere Ovviamente anche quella Per giocatori Espertissimi Proprio Rifugi zero Tantissimi bestie Pochissime risorse Quindi veramente No casino Allora vediamo Che c'è dentro Sta macchina Per cambio No 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 Non volevo uscire Vabbè Rientro Volevo vedere Se c'era qualcosa Niente E non ci vedo Barrette Nelle risorse Non c'è niente Ragazzi Sta macchina E' vuota Giustamente Per Per ripararsi Un po' Dal vento Che tra l'altro Quant'è? Meno nove E la temperatura Vabbè Riposato Pieno Non assetato Ok dai Andiamo Sono ancora messo Discretamente bene Sfascio Così c'ho un altro po' Di legna Due ore di luce Rimaste Eh ragazzi Quindi no Bastoncino Andiamo di esplorare Sta strada Oh cazzo La strada porterà Da qualche parte No Se corro Non mi dovrei tenere Un pochino più Al calduccio Col fatto che sudo No C'è una strada Che porta Vedi un po' Forse qualcosa Nella natura Si Si Un rifugio Ragazzi Un rifugio Un piccolo rifugio Miniera No Miniera abbandonata Ci hanno messo ragazzi Le miniere abbandonate Io mi sento male Spettacolo Spettacolo Fottutissimo Spettacolo Aranciata Barretta dolce Ma direi Favede Ma si Ma proprio perchè Ce l'abbiamo Però senza Senza Farne abuso Perchè come ce l'abbiamo Finiscono anche presto Ne bevevo questa Siamo a metà del carico Nello zaino Quindi direi Di accendere 84% Durerà un bel po' Combustibile per lanterna Rottami Tessuto Per riparare i vestiti Un'altra lanterna Antivento Tra l'altro Armadietto bloccato Serve il pederiporco No ragazzi L'antica miniera Ma stiamo scherzando Vediamo di un beccacci Il lupo Carbone No che figata C'è anche il carbone L'hanno messo nel gioco Che non pesa nemmeno tanto No che figata Anche il carbone Porca tre Per accender il fuoco No vabbè C'è C'è tutto in questo gioco E qualcuno mi disse una volta Peccato non ci sia Il multiplayer No Perchè lo rovinerebbe Immaginatevi Il primo che piglia un fucile Ammazza tutti Questo gioco Ebbene che sia single player Tutta il più Cooperativa Da giocarlo con Con un amico In due Basta Anche troppo Veramente Anche troppo Perchè poi il primo scemo Chi piglia un fucile Cavallino T'ammazza Insomma Finito The long dark Forza quanto c'ha di vita 84 No ma poi La figata più bella È che la possiamo Posizionare anche a terra Per fare luci Cioè Io adoro The long dark Anche un amico mio Dal vivo Gliel'ho fatto Piacentamente tanto Con video Che se l'ha comprato Questo è il titolo Secondo me Survival single player Più bello Fatto Finora Ma è infinita Sta Vediamo il peso Eh Altri 10 kg Sono appena carico Stiamo giocando Ad amnesia Ho cambiato gioco Pezzo di carbone Per fare arzare La temperatura Del fuoco Sono tornata All'entrata O è un'altra uscita Vabbè Andato spengiamo No Non è la stessa Gammiferi Peso Eh Sono quasi A piano carico Ah no Ma Lascia miniera Ah pensavo fosse L'ascensore Che portava giù E ci ha portati In un'altra zona Della mappa E laggiù Vedo un casotto Quindi direi Che è il caso Di Rientrare Nella miniera Abbandonata E direi Che per questo video È tutto Ragazzi Fatemi sapere Se vi interessa Vedere la serie Di The Long Dark Con un pollice in su E ovviamente Cosa ne pensate Nei commenti Lo sapete È uno dei miei giochi preferiti Come Jedi Academy Quindi lo porterò Tanto sul canale Ragazzi Fatevelo prendere bene Che la forza Sia con voi Sia con voi